Si chiude una stagione molto complicata per Cuneo e non si chiude nel migliore dei nuovi altri? No, sono d'accordo, sono d'accordo, peccato perché secondo me questi playoff challenge ci potevano dare la possibilità in qualche modo di riscattare un po' la stagione che io ho vissuto solo in parte, ma per la parte che ho vissuto io, positiva all'inizio e poi una volta raggiunta la salvezza, onestamente mediocre e questi playoff sono andati avanti sulla stessa falsariga, mi dispiace molto perché speravo di riuscire a dare qualcosa in più, invece la prima parte è andata anche benino, però poi dopo non possiamo secondo me essere soddisfatti di questo finale in stagione. Possiamo dire che ne farà parte ancora della Cuneo Grande Vole e farla per la prossima stagione? Sì, l'obiettivo era quello, io stavo parlando con la società per quello che riguardava le prossime stagioni, poi dopo questo ingresso anticipato è stato determinato dalle contingenze, ma non era quello che volevamo all'inizio. Ripartirà con parte di questa rosa o sarà una rosa totalmente rinnovata? Vediamo, ora faremo un po' di riflessioni, alcune robe sono già determinate, qualcosa per scelta nostra, qualcosa per scelta degli atleti, come sempre, poi ci sono diversi fattori che si intrecciano, quindi vediamo, tanto tempo ce n'è, purtroppo molto per parlare di queste cose. Oggi si è giocato in un'atmosfera ancora di cordoglio per la scomparsa di l'Uglie Tuma, tu sei stato suo allenatore per due anni, tre anni, puoi darti un ricordo personale di un'atleta? È molto, molto positivo, di grande spessore, per quello è ancora più pesante, ancora più difficile la cosa. Questa sera è stata una partita personalmente un po' più normale, la prima a Firenze, mi dispiace, ma per me è stata una non partita perché insomma era troppo fresca la cosa e ricordo di una ragazza che di grande professionalità, di grande maturità, rispetto all'età che aveva, secondo me è molto matura, molto consapevole, brutta perdita, non c'entra la pallavolo in questo caso, c'entra proprio lo spessore della persona.